musica hai visto che faccia che ha fatto il cammino? no forse non hai capito, forse lui mi sarà risolterrato, forse questo non hai capito ma mi sto rubando questo cazzo, ma che mi fanno? ma che mi fanno dire? ma che mi fanno dire? ma che mi fanno? ma che cazzo mi fanno dire? e che mi fanno dire? ma 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 ci siamo sti puttana tina nonno cioè io non lo so, ma ti pare normale ma poi dico io, queste cose ti capisano solo quando ci sei tu solo quando ci sei tu, ti giuro ti giuro ti giuro vieni 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 mi fanno dire questi amici qui non li come guardare extra buona Oh grazie! Grazie! Facetela sta fitta, sta toccola! Oh! Grazie! Oh! Avvilateci alla bocca, va! Ma come ti senti, eh? Ma ti senti sporco! Al manicomio dovevo andare. Manco per la galera ti faccio passare. Da questi che sono? Da questi che sono? Non sai manco dove li hai presi, eh? Non sai manco dove stanno questi. E sono soddisfatto? Sì, sono soddisfatto! Lo farei altre mille volte! Chissà cosa mi avrebbero fatto se non avessi preso la sua pistola e sparata! Cosa avrebbero fatto la mia ragazza? Ho voluto sapere! Meglio no, eh! E ho saputo perché! Perché teniamo paura! E loro sanno! Ma stavate non c'è youtuber! Eh? Ditelo ai giornalisti quello che ho fatto, eh! Ditelo! Così faranno come fanno sempre! Come? Come? Gettando queste informazioni così delicative basta la televisione! Senza scrupoli! Senza pensare che notizie di omicidio e azioni brutali potrebbero scatenare la mente di più debole il coraggio di riproporre la cosa! Ho un problema in caso tutto teppola! La verità è che li difendete troppo! E questo li illude che nulla li possa urtare! Che sono i patroni di tutti, intoccati! Ma poi succede questo! E questi mi datelo condividere! E questo! Voglio vedere se prima di fare qualcosa altro ci ripensano! Arrestatemi! Fatemi quello che volete! Io sono la prova che delinquatici diventa e non perché non si abbia una famiglia alle spalle! Un'educazione! Io scelto sapendo di sbagliare! E questo anche loro! E' solo che allora si riempiono i cazzali! Che a una parola non ci stanno sordi! Che questa è la vita! Che queste sono le possibilità! Alla verità che sono tutti colpevoli! Basta! Basta! A così è! Vanno! Visti gli articoli 576 e 577 del Codice Penale! Questa Corte dichiara l'imputato Arturo Mottola colpevole di... ... ... ... ... ... ... ... ... E lo condanna alla pena di anni 30 di reclusione e di interdizione perpetua dai pubblici uffici, come d'articolo 575 del Codice Penale. Così è deciso il 10 ottimo. Codice Penale è aperta 2 ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.